Ricordo una volta che abbiamo fatto counter invade a Blitzcrank e avevamo Brom e Jax a livello 1. Abbiamo fatto 4 per 0. Pensa. Bellissimo. Partita vinta in 1 minuto e 30. Cos'è che fai tu dell'Isheraptor ho sentito dire? Mi si è bugato il doll? O non mi si è bugato il doll? Posso dare uno? Posso dare uno di cui vuoi, ma non fa danno. Vabbè è Starter Raptor. No, non stavo parlando della mica immaginaria. No, però ti spotto se lo faccio adesso. È venuta subito a pushare. No, non stavo. quando vuoi veramente aggredirmi tantissimo questa ho preso un po di danni mazza ma io o te io io c'è tipo il microfono ti mangia forse disco vabbè sembrano quasi lavabili bot ma un po di creatività io creatività ne ho la roba guarda arriva vuca un gattante mi doveva benissimo a bro io vorrei uccidere wukong guarda mid l ne arriva bronson uno spot particolare questa qui potrebbe starsi muovendo però c'ha pochissima vita si è suscitato a zyra zyra ma cosa mi conviene poi venghi pure se i silver 3 se ne mannaggia a te te la uccido ok mid samson entrambe qual è bella domanda bella roba per un attimo giro pensavo potesse essere l'altro è da abbastanza perfettamente al 18 css la blanca ma io così era difficile TF potrebbe malmenarmi Se vuoi puoi luccare sul bounce back Ma aggancare le blank Perché lei non è stupissima Così così diciamo per me No flash TF Io posso muovermi Io vorrei ricollare Ah però dovrei coprire questa qua che trolla sicuro Dai ma perché mi costi ringere stare Sei proprio una patetica maledetta ragazzo Annoying Riven Ma che fa? Ma bravo ma dai va Tipo sei volte lo uccidevamo Dovremmo anche zonare Twisted Fate in realtà Cioè che di base è ward e non face check Però non è il 6 quindi è completamente fucked Situazione particolare Ah io potrei morire Sarei felicissimo se tu non dessero una chila le blanca Le do un shutdown Te ne pare Allora Possiamo parlarne nel senso Happens Non importa So che non l'hai fatto apposta Ma no ma poi Top è tipo disaster Per loro Ha già vinto il game Bene 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 Fa piacere Missa mid Stanno dando a grabs sicuro Vogliamo fare cross map al drago Io ho 10 secondi al volo E la ulti In realtà Cioè tipo uno Prende uno o due li fanno Però potremmo ucciderli tutti Non sto arrivando io Possiamo prendere un game per me Eh sì qualcuno magari Sai Stupidino No mi sa che Non gioca safe Dai invadere Vukango Non ci ho pensato Meno male Troppo tardi Se pushi vado lo stesso Vedo se Tipo lo troverà Non so perché ho priority Che l'hai rommato No ma non mi stavo riferendo A questa voce in particolare Eh già se n'è andata la scimmia Peccato Cioè potrebbe arrivare qua in realtà La blanca è smizzata Sto arrivando È morta la scimmia Tanto c'è la blanca qui Ma questo qua Vi pensavo fosse Non pensavo fosse un player Sai Che dire No flash Vukong Ma che cacchio è Te l'ho giocata bene Guarda top No flash Vukong No flash Vukong No flash Vukong No flash Vukong Ma che cacchio è È anche rimorto Vukong Pensa Si gode Dove pensi di andare Scimmia Dove pensi di andare Eccola qua Però zero Poteva anche non suicidarti Vabbè Però una cosa un po' stupidina Where Kaisa chat Puzzere di che Resento Where Kaisa Ah C'è la scimmia La scimmia pazza C'è la scimmia Ok Temmini che è il Draven Quel collector Secco Se riesco Peccato Magari va per la placca Vediamo un po' Nice No Crevi si è bugato il microfono Di nuovo La prima che ha problemi col Mick Pro Provo prova 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 Mi sento Oddio è tutto il game che cerco di risolvere Non so perché il microfono continua a staccarsi È brutto stare quando capitano Boh Problemi tecnici Ovviamente è a caso Poi Cioè senza musivo Vediamo se Riven vuole andare Ma non lo smite Potremmo fare Il fight Eh TF più volta Brava Io ci sono il loro jungler Che non può smitare Che è successo? Una cosa bizzarra Una cosa bizzarra Che è successo? Ho scliccato un po' di volte Ma Poi il tasto Ce l'hai pensato Per lavoro Sull'altro tasto Credo che l'essenzio Sull'herald Ah Si è spostato Quello che ho cliccato Carino come predict Questo Grazie a tutti Oh Chi l'ha lì dentro il buco nero Guarda ti ha le stack Sì, basta che muoiono dentro Non serve che li prenda io Basta che muoiono dentro La roba Buona saberla anche per le wave Se non serve che li uccidi tu Si sa mai Come? Vero, vero Grazie Non hai preso abbastanza roba Non lo so però Fa caldissimo oggi Quindi non gliela farete nero ovviamente La maglietta certo Sto arrivando Ma questi li killiamo o no? I guess Qua ho missato un po' in maniera sciocca Vado 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 Vai Ha flashato non c'è Non potevi riprendere l'acqua? Nel primo istante sì Poi dopo no Vado 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 бросare l'acqua? Ma divertendosa No violations In Visti Dai peccato Senti posso fare un insect e morire che te ne pare Fai uno Grazie lo scudo Credo che mi aveva salvato Quanto dà di scudo? Parecchio sti si Non si aveva salvato C'ho il tp up eh Partiamo subito Cos'era quel messaggio? Era una critica Riguardava l'elo? Capiamo Io ci sono molti pm Poi io sono in posizione un po' ambigua Ma potremmo fare qualcosa Ah vatì 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 Ok È vero rompendo Flash cosmetico Importante Oh Happens Bonk Non ho capito Prendiamo baron così Eh così Chidiamo sta bagiacciata Di game Io il teleport ci sono praticamente Ok Allora Lo sappiamo con le piante di zara magari Aspetta il blue buff Sì sì Non se le porto subito Or noto I guess Puede anche chillare si Boh se lo lascia no No li possiamo faietare guarda Io posso teleportare se vogliamo faietare Sì però mi avete Vincete Vincete Mi sono andorato Non hanno nessuna ulti Just fight Io sto cercando di ripetare Eh lo so Sono temi di ragazzi E l'abbiamo fatta Bella roba Chubia win Ah no Abbandonate il mio teleport qui Sì Ma non male Ebbene ho messo dolento Se no Feceva R sulla tua Il teleport Mori visto Non credo che c'avesse la R No no Ce l'avevo Ti l'ha tirata male infatti Ok Allora Era un po' weirdo Però beh sì Ma in realtà Cioè sì Se venivano i tuoi alleati Cacchio Potevano fare pure prima Anche perché se di me eravamo solo doppia ulti E siamo talmente ahead Vogliamo provare a flippare un altro fight Nel senso che restate Vediamo Vedate No 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 Tipo no Mi sembra una chicken at Mal accetto Ah che palle il baron in power i minion Ok Ho flash ulti grossa adesso Allora possiamo chiudere Se ne te la puoi conservare per il baron Cioè per Volevo dire per Mi serviva quell'ultima way Per prendere The stack Ok Ci sono quasi Io arrivo qui col volo Comincio a luccare Ok Posso Guarda che si chiude Guarda che si chiude GG 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 si Aspetta aspetta la kill so broma Troppo con la E Understandable Avrei fatto più danni nel grafico Cioè ti Prego Vero Grazie Io non ho praticamente Fight up Sto game Formato e basta Grande win Grande win Guys Bravi tutti Bravi tutti Back in the zone Back in the zone Esatto Non riesco a capire Come cazzo Ok ho trovato Ok Non mi preoccupio Non mi preoccupio Certo 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 Tu puoi Che è successo? Oh Un ragazzo strano Che ha scritto un messaggio Divertente Strano Ma Ok Understandable Volevo a me stay Volevo a me stay